Vi presentiamo adesso un altro pezzo analogo, un leggermente più storico. Ecco, Armi e Brio, che a suo tempo ha rappresentato musicalmente la Guardia di Finanza. E un pezzo d'autore, Antonio De Ria, un uomo che è entrato nella storia delle bande e anche delle bande militari. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.